Ciao a tutti, io sono Fedro, questo è E-Trip e oggi andiamo a fare i biscotti più stupidi che abbiate mai visto. Sono di una facilità che se non riuscite a fare questi non dovete mai più entrare in cucina. Prendete una bilancia, fate la tara con la ciotola, 200 grammi di farina, questa è senza glutine, potete usare anche quella di riso. Ovviamente quella 0-0 normale. 50 grammi di zucchero, oddio, vabbè, se ne caverò un po'. Un cucchiaino di questo lievito, un uovo e 75 grammi di burro. Ok, ora potete scegliere se metterci o delle scorze di limone o delle gocce di cioccolata. Decidete voi, eh, però. Gocce di cioccolato. E vai di gocce di cioccolato. Ok. Se avete scelto di metterci il limone al posto delle gocce di cioccolato, comunque ci sono dei posti dove curano le persone come voi. Dai, scherzo, i gusti sono gusti. Avete dei gusti di merda. Andiamo a mescolare. Arrivati a questa consistenza, iniziamo ad impastarlo un po' con le mani. Tagliere. Sostiamo tutto qua. E impastiamo. Molto facile da lavorare questo impasto, eh. Guardate che bella, eh. Ok. Fatto questo, mettiamo qui la carta da forno. E andiamo a tirarla. E deve diventare più o meno di, boh, due centimetri. Bella storta, così, eh. Comunque voi direte, adesso andiamo a fare le formine. Noi non abbiamo nessuna voglia di fare le formine di nessun tipo. Quindi. Quindi lo andiamo a infornare così. Tac. 180 gradi statico, perché il mio è solo statico, e inforniamo. Possiamo sfornare. Guardate che bello, è un cookie gigante. Lo lasciamo un po' raffreddare. E poi lo spezziamo, a mano, così. Guardate che sono belli. Poi li spezzate, fate tutti dei pezzettini, li mettete in un sacchettino, buone. Sono fantastici. C'è la casa che fa un profumo assurdo. Non mangerai tutto. Meglio di no. E' appannata un po' la telecamera. Comunque dopo vi fate un sacchettino, così. Ve lo portate in giro? No, vabbè. Sono veramente fantastici. Grazie per aver guardato il video. Cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, le solite cose. Ciao.